Come promesso vi voglio parlare perché l'ho potuto vedere in anteprima Mi state chiesto comunque di vederlo e di esprimere un parere Il film è Nido di vipere e uscirà al cinema il 15 settembre Nido di vipere è un film thriller, commedia nera, sudcoreano, del 2020 Scritto e diretto da Kim Jong-un ed è il suo film di esordio Il film è tratto dal romanzo, devo leggere perché sono nomi impossibili da imparare Un romanzo giapponese che si chiama Waranimo Tsugaru Kemonotaki di Keizuke Sone Quindi curiosità, lui è un attore coreano ma ha deciso di trasporre a film questo romanzo giapponese Curiosità, il film arriva al cinema il 15 settembre grazie a Officine Ubu Vediamoci il trailer, questo è un trailer fatto bene perché vi assicuro che non si capisce una sega Hai sentito? Hanno trovato un cadavere fatto a pezzi nel lago di Pchontè Quando ci sono di mezzo i soldi non puoi fidarti di nessuno, neanche di tua madre Allora ragazzi miei E' strano perché il trailer sembra una cosa, in realtà Poi il film è un po' diverso da come si vede, da come può apparire O almeno come è apparso a me nel trailer Però non sono rimasto deluso eh Perché io me lo aspettavo un film più action Invece ci ho trovato dentro molto meno action ma molte più cose che mi interessano Nel senso che è molto più horror, tra virgolette horror Nel senso che ci sono scene splatter, ci sono scene violente, particolari Che non mi aspettavo ci fossero così tanto, così morboselle, cupe no? Comunque, allora c'è di mezzo una borsa piena di soldi E non vi dico molto sulla storia perché secondo me anche la parte bella di questo film E' proprio l'imprevedibilità della trama Cioè non riuscirete a capire come invece spesso accade in tantissimi film un po' più omologati Spesso americani dove vedete che si sta per succedere questo, questo e quest'altro E sapete già come andrà a finire E oltre al fatto di sapere già come va a finire non c'è nient'altro Quindi rimanete completamente delusi Qua comunque c'è l'incapacità totale di sapere come si svolgeranno i fatti E forse in questo, quando Davide dice che erano i fatti, si sono matti, imprevedibili almeno in questo E hanno un cinema che fa un po' quello che vuole Secondo me, mi è venuto in mente adesso mentre iniziavo a parlarne Secondo me anche il fatto di avere così tanti registi bravi Come appunto il regista di Parasite, il regista di Oldboy Alza tantissimo il livello del cinema coreano, no? Si sta alzando il livello Cioè bisogna dare merito al fatto che appunto Registi più autoriali hanno alzato il livello di tutto Rendendo questi film, questo film qua è un film comunque di intrattenimento È un film, non vorrei dire il tarantino perché stilisticamente non ci sono cose tarantino Forse qualcosa sì nel montaggio, nelle cose Però comunque sì è un cinema noir, comedy, horror, thriller No, horror poco, però è un thriller, commedia abbastanza grottesco, strano E in questo mi ricorda anche appunto certe cose di Tarantino Però c'è una vicinanza molto bella che ha trovato appunto Salvatore Amenta che ha scritto la recensione Che lo ha avvicinato al cinema dei fratelli Cohen Chiaramente siamo ben lontani da quel tipo di bravura registica Però il gusto, il sapore della vicenda è proprio quello di un thriller dei Cohen Quindi con quella dosi di umorismo ma anche cinismo che c'è nel cinema thriller dei Cohen Comunque c'è una borsa, una borsa come avete visto di Louis Vuitton Piena di soldi E questa borsa verrà trovata da delle persone Rimetterà nei guai delle altre persone Tutti cercheranno sta borsa Però il gusto di questo film è molto diverso dal solito film dove c'è la borsa coi soldi Che è un po' un cliché, una storia che vediamo spesso nei film La storia della borsa coi soldi e tutti si ammazzano per prenderla Sì, ma in modo molto diverso Nel cercare di prendere questa borsa In realtà verranno raccontate delle vicende parallele Che in alcuni casi anche molto drammatiche Ma che non riusciranno a incupirci minimamente Perché il film è estremamente divertente Ci sono delle cose comiche molto simpatiche Molto divertenti Quindi anche le parti thriller e violente Risulteranno così grottesche da non inquietarci Insomma, sarà molto divertente Il film di per sé non è appunto Mr. Vendetta Non è questo tipo di cinema Però ecco, una cosa davvero impressionante Di questo film è la qualità tecnica di come è stato realizzato Già dal trailer avete potuto vedere una fotografia mostruosa Ma mostruosa ragazzi Cioè veramente stupenda Inquadrature, movimenti di macchina È tutto perfetto Cioè non c'è niente di fuori posto Ecco, l'unica cosa Ecco, forse questo regista A parte che vabbè Cioè, siamo al suo fin d'esordio Quindi cominciare così già non è male Ecco, forse quello che si nota È che non ha ancora una sua impronta il film Quindi spero per lui che possa crescere come regista E dare un'impronta ai suoi film Perché la storia è interessante E appunto Se avesse avuto un tocco più autoriale Più personale Sarebbe stato più bello Però a livello tecnico è mostruoso È veramente piacevolissimo Un film così In Italia ce lo sogniamo Dal punto di vista dei contenuti Non mi ha colpito particolarmente Però l'ho trovato gradevole Perché fa ridere Cioè a me mi ha fatto ridere Ci sono due personaggi Principalmente C'è un Un attore che si chiama King No scusa Questo è il coso Che si chiama Jung Ho Sung Che fa un Appunto colui che ha perso questa borsa Che fa spaccare da ridere E poi c'è questo personaggio Dell'ispettore Che mi è piaciuto particolarmente Perché è Una citazione Penso involontaria Non so se volontaria o involontaria Del tenente Colombo Perché ha questo atteggiamento Quando Quando parla con Con le persone che lui sospetta O con cui sta indagando Ha un atteggiamento molto da Piacione Fa finta di essere un po' ingenuo Sembra veramente la versione coreana Del tenente Colombo Devo dire che è un buon film Ma nulla di trascendentale Insomma Se volete vedere Un film leggero Divertente Ironico Thriller Ci sono anche scene Violente Di sangue Fa per voi Assolutamente E poi quantomeno È un film fatto bene Cosa che Non è così scontata Ultimamente Mi sono anche se Di sangue Di sangue Sì Mi sono anche se